Secondo passo per diventare amica dell'ex Ascoltare Ma dimmi, come pensavi di fare questo bozzetto? Lo sai, è per il film d'azione Sì, ma come? Raccontami, dimmi Pensavamo a un pantalone con i tasconi Ah, interessante E cosa c'è nei tasconi? Non mi sembra importante per il bozzetto Oh sì che lo è È importante per l'uomo che state vestendo, per capirlo Ti senti bene? Guarda che non devi far finta di interessarti a quel che faccio Ma io lo sto fingendo, sono davvero interessata Molto E per quanto riguarda le scarpe? Beh, qui si avrà un capitolo infinito Potremmo parlarne per ore Ok ragazzi, vi ascolto Ditemi Una ragazza che sa ascoltare è decisamente una buona amica Ok, ora però ci lasciate lavorare in pace? Tranquilla Il terzo passo sarà quello decisivo Sei sicura che questa regola dei tre passi dell'amicizia funzioni? Certo Hai ne visto due expi amici di me, Jack? Amici Fratelli Devo fidarmi di lei Non ho alternative Ciao a tutti, siamo Maggie e Bianca Seguiteci sul nostro sito ufficiale, canali YouTube e profili social E non perdete neanche un aggiornamento Não ВидiteciORE E non le stati Non 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 Scusi Non 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 I run till I'm breathless Just to follow my dream One day I'll find my place One day I'll make you take